Musica Dramma casa Ronaldinho, l'adorata mamma Miguelina, 71 anni, è deceduta a causa di complicanze a seguito del contagio di Covid-19. Dopo aver contratto il virus ed essere stata ricoverata, la donna ha avuto un progressivo peggioramento fino al decesso. L'ex stella brasiliana ha manifestato il suo dolore anche via social, togliendo tutte le fotografie dagli account ufficiali online e mettendo al posto delle solite immagini dei profili sul web un cerchio nero in segno di lutto. Ronaldinho lo scorso 21 dicembre aveva comunicato via social network lo stato di salute di mamma Miguelina. Cari amici, mia madre ha il Covid e noi stiamo lottando perché guarisca presto. E nel reparto di terapie intensive riceve tutte le cure, grazie in anticipo per le vostre preghiere, energie positive e affetto. Forza mamma, aveva scritto esattamente due mesi fa, ma la situazione si è pian piano aggravata fino al decesso odierno. Forza mamma, aveva scritto esattamente due mesi fa, ma la situazione si è pianissimo. Forza mamma, aveva scritto esattamente due mesi fa, ma la situazione si è pianissimo. Forza mamma, aveva scritto esattamente due mesi fa, ma la situazione si è pianissimo.